Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Una bomba gossip è stata sganciata in queste ore. Rudy Zerbi ha una nuova fidanzata e ci sono delle foto a provarlo con certezza. Nonostante lui non lo abbia mai confermato ufficialmente, l'insegnante di amici è stato ormai sgamato e negare è praticamente impossibile. Anche perché è la stessa sua partner ad aver postato delle immagini in compagnia dell'uomo, che a quanto pare le avrebbe fatto perdere completamente la testa. E ora Rudy Zerbi potrebbe anche presentare la nuova fidanzata nelle prossime ore sui suoi social, cosa che finora non ha mai fatto. Proprio a settembre lei ha pubblicato l'ultima istantanea in compagnia di uno dei volti principali del programma di Maria De Filippi, che forse voleva semplicemente godersi la privacy. Il sito fanpage ha anche ricordato che lui aveva affermato a Verissimo di non essere impegnato in nessuna storia d'amore. Rudy Zerbi è stato visto insieme alla nuova fidanzata anche mesi fa, parliamo di prima della stagione estiva. Tra i due c'è una notevole differenza di età, come scritto anche dal settimanale chi, infatti lei oltre ad essere molto bella, è anche parecchio più giovane. Il suo papà è decisamente famoso, ma vediamo insieme cosa ha rivelato il settimanale di gossip nelle sue pillole. I conferme sono giunte anche da Alessandro Rossica, conosciuto come l'investigatore social. Chi ha dunque annunciato su Zerbi, Rudy Zerbi ha una nuova compagna, che ha presentato ufficialmente al suo gruppo di lavoro più intimo. Lei è la giovanissima Grace, figlia dell'imprenditore Daniele Racca, e i due sono innamoratissimi. La prima uscita pubblica è stata al compleanno del regista di Uomini e Donne Stefano Carriero. Qui nelle foto di Rito lei chiamava teneramente Rudy lì il mio tutto. Il papà di Grace ha il noto marchio di abbigliamento Uomo Dungeon. Rossica ha invece detto, in esclusiva per voi, dato che si è sempre dichiarato single, ecco la fidanzata di Rudy Zerbi. Lui l'ha sempre tenuta riservata anche per via dell'età, figlia dell'imprenditore Daniele Racca. Ma ora è stato definitivamente scoperto.